Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Starscrappers, ambientazione famosa in cui ci abbiamo visto diversi altri giochi che vi consiglio di andare a vedere appunto nei video precedenti, nella versione Orbital, gioco di Jacob Freakselius, famoso per tanti altri giochi, di solito le fa sempre in ispirazione sci-fi o comunque spaziale, ed edito dalla ExiStudio che io ringrazio veramente di cuore per averci fornito questa copia per la recensione che ricordo c'è anche scritto essere un prototipo, e il gioco uscirà a giorni, sta per uscire su Kickstarter, comunque tanto troverete il link in descrizione. Un gioco davvero molto interessante, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. L'ambientazione di Starscrappers sta diventando, e poi vi mostrerò anche un'altra cosa molto interessante, un parco giochi molto ampio, con un bel bacino veramente da dove vanno a prendere appunto molti giochi differenti, perché hanno voluto creare questa ambientazione che se vi ricordate riguardava il primo gioco che trattai sul canale di minatori spaziali, questi minatori che vanno in queste caverne dovevate tirare fuori quel materiale che serviva come combustibile, insomma per le flotte e cose del genere. Ed è molto interessante perché questa volta hanno voluto fare un gioco dove, ora ve ne parlo, dovete costruire una stazione orbitale, ma soprattutto hanno fatto un altro gioco che è il loro primo e vero gioco, skirmish wargame, molto interessante, che se vogliamo ricorda anche abbastanza da vicino Warhammer Kill Team. Gioco unicamente print to play, quindi ve lo dovete stampare, ma comunque abbiamo fatto qualche miniatura e ci farò un video dedicato a parte che vi farò vedere. Questa ambientazione appunto di Starscrappers che prende e condivide tutti quanti questi giochi hanno voluto creare questa specie di universo alla fin fine loro personale e come specie di space opera o space western devo dire che gli è venuto veramente molto bene. E in questo Orbital dovrete ovviamente costruire una stazione orbitale, è un gioco competitivo ma non ci si può andare a minare tra un giocatore e l'altro, più che altro si mira a costruire la miglior stazione possibile orbitale e si vince e vince il giocatore che farà più punti. È un gioco abbastanza veloce, non è un filler perché è un gioco molto di strategia, però ve l'ho detto è veramente interessante e poi per gli amanti dello spazio come me è un gioco assolutamente perlomeno da provare una volta. Vi faccio vedere un po' come funziona, al solito vi do soltanto un'idea, ma prima di tutto unboxing, confezione del gioco, ricorda ancora in modalità molto provvisoria, e il disegno è bellino perché vediamo questo equipaggio che vanno appunto a costruire questa stazione spaziale ed è veramente molto carino e poi mi piace, molto accattivante, ricorda anche un po' volendo a parte razze alieni e cose del genere, ricorda anche un pochino The Expanse, una serie che amo da morire. Apriamo, c'è da far vedere veramente poco perché ripeto in questa versione prototipo anche la roba che è dentro è di passaggio e provvisoria, comunque vedete tutti quanti i meeple che vanno a rappresentare i membri dell'equipaggio, poi ci sono dei segnalini, dei cubettini che servono per segnare i punti o anche ovviamente i turni che passano e tutti quanti i mazzi di carte che vanno a comporre, mazzi evento, mazzi di carte che potete usare in mano, stazioni della nave che è andata a costruire, mentre di qua abbiamo tutti quanti i token e segnalino che come vedete sono quelli di tipo rottura, di un modulo per andarla a riparare e soprattutto, ora poi ve lo faccio vedere un pochino meglio, con una carrellata dal lato durante la spiegazione, le plancette iniziali, quindi i moduli principali da cui poi si sviluppa tutta quanta la stazione. Ragazzi il materiale ovviamente non sarà questo qui, sarà molto di più e fatto meglio, e tra l'altro il regolamento non c'è perché l'ho ricevuto in pdf, e ve l'ho detto comunque è una cavalata, sono tipo 5-6 pagine, vi do un po' un'idea di come funziona. Io non so se la versione finale del gioco, premetto subito perché un prototipo, potrà subire anche delle variazioni sulle regole, ma penso che il regolamento bene o male sarà questo qui, non ci saranno grandi aggiunte, anche perché va bene così com'è, non vedo tutto quanto, e funziona bene, non vedo tutto quanto questo bisogno di andarlo un po' troppo a pressare di roba, a riempire di cose inutili, futili. Ciascun giocatore ha una mano di carte, e in questa mano di carte ovviamente potete fare delle azioni, azioni che inizialmente all'inizio del gioco, all'inizio della partita, nel setup iniziale, avete un modulo, uno principale e un equipaggio, ovviamente che l'equipaggio è quello che può fare le variazioni all'interno della stazione orbitale, che non potrebbe funzionare senza appunto mano d'opera umana. Dovrete andare a costruire dei moduli, o anche fare manutenzione a moduli esistenti, o giocare carte che avrete in mano, oppure andare a comprare carte da un mercato comune che ci sarà sul tavolo. Ad esempio, è un po' come si è visto anche nel gioco dei minatori, sempre di loro hanno usato la stessa idea, dove ci sarà un mercato, dalla parte iniziale la prima carta a sinistra o a destra e lati costano 1, 2, 3, 4, 5. Quindi mano a mano che si va avanti e si può prendere la carta in fondo, il costo per acquistarla in azione ovviamente costerà sempre di più. E all'inizio di ciascun turno ci sono azioni infinite, fanno azioni giocatore A, uno giocatore B, uno giocatore C, quando tutti arrivano a passare, finisce l'anno e si passa all'anno successivo. Si fa la conta di punti e poi dopo 8 anni, che si possono anche espandere se si vuole fare una partita più lunga, vince il giocatore che ha più punti. Quindi comunque è una corsa ai punti. E ciascun giocatore può fare un'azione, che è giocare una carta che è in mano, tipo una carta evento, collegare un modulo alla stazione principale, o agli altri moduli costruiti, però devono avere un senso, perché uno non può entrare nel modulo e restarci chiuso, deve sempre avere un'entrata e un'uscita, oppure se volete collegare un altro modulo al modulo che avete costruito, deve avere un'entrata e un'uscita al modulo, quindi non deve essere attaccato soltanto da una parte, ma deve avere anche uno sbocco per poter permettere all'equipaggio di spostarsi per la stazione orbitale. Ovviamente il gioco dice che se vai a costruire un modulo di un colore, che ne so, rosso, attaccato a un modulo di colore rosso, userai meno punti e cose del genere. Oppure si può fare manutenzione a dei moduli, perché i moduli si possono rompere e incendiare, quindi se no vi esplode la stazione orbitale, fare della manutenzione, oppure si può fare un upgrade ai moduli esistenti, o si può giocare un evento, o giocare una carta che abbiamo in mano. Di tutte queste azioni il giocatore ne potrà fare una soltanto per turno. E ve l'ho detto, poi quando tutti quanti avranno passato, si vedrà la stazione orbitale come è venuta fuori sul campo, tra molti virgoletti, di battaglia, e chi l'avrà fatta meglio, avrà guadagnato più punti, si aggiudicherà la partita. E ve l'ho detto, spiegato ragazzi velocemente, poi un gioco da una sessantina di minuti, come riporta la scatola che è molto veloce, da 1 a 5 giocatori, si può giocare tranquillamente, c'è la variante anche in solo, ed ha 10 anni o più ragazzi, che è velocissimo, ve l'ho detto. C'è la mappa e la dovete costruire piano piano alla stazione orbitale, quindi c'è anche poco da imparare e da spiegare, e giustamente lo intavoli e lo porti ovunque. Secondo me è il gioco veramente per tutti, e regolamento poi sono 5-6 pagine, una cosa velocissima, ribadisco in questo prototipo. In fin dei conti, come valutazione finale, Starscraper's Orbital è un gioco veramente alla portata di tutti, non è complesso come regole, non è nemmeno straricco di cose che puoi fare, però alla fin fine devi costruire una stazione orbitale, stazione orbitale che si può rompere, stazione orbitale che può essere upgradata, ha fatto un upgrade, quindi evoluta, non c'era bisogno di tantissime cose, di flotte aliene che arrivavano ad attaccartela per, boh, non lo so, allontanarti dall'obiettivo principale che è quello appunto di costruire e mantenere una stazione. E secondo me ci riesce bene, sarebbe forse stato carino anche vedere una variante, cioè l'avrei aggiunta cooperativa, tutti che si collabora per mantenere la stessa stazione, magari ciascun giocatore invece di usare un vero e proprio equipaggio usava soltanto un omino, e sarebbe stato bellino magari una variante del genere, però quella potrebbe essere l'idea per un altro gioco, magari dove uno fa il capitano, ingegnere, manutenzione, che ne so, marine, perché ci potrebbe anche essere tipo altri problemi come vedo italiani e cose varie, però quello magari sono tutte quante idee per un altro gioco, ed è molto 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 interessante, e come tutti quanti i giochi di loro, comunque molto veloce, si intavolano facilmente, si spiegano ancora più velocemente. Quindi secondo me è un gioco alla portata di tutti, che gli dà un valore più alto rispetto alla media, e ripeto che è un gioco che potete acquistare dal Kickstarter, che vi lascio in descrizione, e che se non è già iniziato quando carico il video inizierà breve, comunque trovate tutto quanto in descrizione. Io ringrazio Lexi Studio per avermi offerto questa copia per la recensione, ancora una volta ricordo prototipo, e ragazzi fatemi sapere un po' cosa ne pensate, è il classico gioco secondo me benedetto, come li chiamo, perché dove lo porti lo porti, non ci sarà mai che al tavolo magari si rompe le scatole, e dice no io non gioco, è come Dixit, dove lo porti, fai giocare e fai divertire. Ciao ragazzi, alla prossima!